Bene, dopo le vacanze di Natale riprendiamo sabato contro la prima in classifica a Villanueva, che abbiamo già incontrato in un torneo e sappiamo già che sono molto forti, hanno ragazze molto esperte che alcune hanno fatto addirittura esperienze in Serie B, quindi avremo poche probabilità di successo anche perché comunque noi purtroppo continuiamo a non avere alcune ragazze a disposizione. In questo momento qua posso soltanto dire che nonostante abbiamo fatto un buon lavoro durante questo periodo, dopo aver giocato anche nei vari tornei, abbiamo lavorato su alcuni aspetti tecnici dove le ragazze hanno risposto molto bene, però sta di fatto che comunque non abbiamo alcuna certezza di base di un sestetto sul quale lavorare. Di settimana in settimana inseriamo delle ragazze nuove in vari ruoli, tant'è che abbiamo provato anche Baselari a spostare dal centro come lato, ma proprio perché abbiamo qualche ragazza ancora fuori. Baselari ha lavorato bene, come sta lavorando con continuità anche Tomasi, comunque due ragazze che hanno sempre fatto i centrali, che quest'anno cerchiamo di cambiare il ruolo per esigenze di squadra, ma anche perché hanno delle attitudini per fare quel ruolo. Pertanto affronteremo questa partita qui un po' con alcune difficoltà già in partenza, ma questo non ci riesco a raggiare, noi dobbiamo chiaramente lavorare su noi stessi e diciamo che per la partita di sabato ciò che viene, viene anche a livello di risultato. Speriamo di riuscire a fare comunque una prestazione interessante e soprattutto dobbiamo essere bravi a lavorare su quelle che sono poi fondamentali che ci competono contro una squadra del genere, quindi muro difesa e contrattacco. Questo è un po' l'obiettivo per la partita di sabato.